Ancora avvistamenti di delfini vicino alle coste salernitane. Come mostrano le immagini, emozionanti e davvero splendide, messe a disposizione da Salvatore Gasparro, un cittadino di Monte San Giacomo e nostro telespettatore, nell'ultimo fine settimana un gruppo di circa 40 delfini è stato avvistato ad Agropoli, a largo di Punta Tresino. I simpatici cetacei sono stati veri e propri protagonisti delle state sulle coste salernitane. Diversi infatti sono stati gli avvistamenti, anche molto vicino a Riva, in particolare nel Golfo di Policastro. Mai come quest'anno, con i loro salti e le loro evoluzioni in mare, questi splendidi mammiferi hanno incantato i fortunati villeggianti e turisti che hanno scelto le coste salernitane per le loro vacanze. Una bellezza nella bellezza, i delfini sulle coste salentane, che raccolgono sempre più consensi per quanto sono meravigliose e per quanto sono accoglienti. Grazie.